Un tuffo nella vita privata e pubblica di Grazia dell'Eda, premio Nobel per la letteratura nel 1926. Una visita nella casa natale della scrittrice nuorese, ora diventato museo, gestito dall'Isra, l'Istituto Superiore Regionale Etnografico, che ne custodisce i ricordi e ne tramanda la memoria. Si è conclusa nella casa natale di Grazia dell'Eda la prima giornata a Nuoro dalla delegazione dell'Università di Hong Kong, giunta in Sardegna per conoscere Nuoro e i luoghi in cui la scrittrice ha vissuto e nei quali ha ambientato i suoi romanzi. Un viaggio nel passato, quello che stanno compiendo gli accademici e gli studenti nel corso di letteratura dell'Ateneo Asiatico, che dopo aver conosciuto la Deledda attraverso le pagine dei suoi romanzi più celebri, si sono immersi nei luoghi delediani. La mattina è stata dedicata alla visita al Monte Ortobene, alla chiesa di Nostra Signora del Monte, con una tappa alla Statua del Cristo Redentore, che è legata alla figura del premio Nobel per la letteratura. La sera invece è una visita al Museo dell'Eddiano. La delegazione, guidata da Cirio Coffedu, l'ingegnere e manager nurese che ha fatto conoscere agli accademici di Hong Kong le opere e la vita dell'illustre concittadina, ha visitato le sale della casa del premio Nobel. A dare il benvenuto Paolo Picqueredu, direttore dell'Isdre, mentre gli studenti dell'ITC Salvatore Satta hanno fatto da Ciceroni. Una tappa che ha colpito gli ospiti, provenienti da realtà economiche e culturali diversissime, incuriositi dalla semplicità della vita di una donna che col suo talento di scrittrice ha raccontato un mondo arcaico, percorso da sentimenti che però sono universali. Il viaggio nei luoghi delediani della delegazione della City University di Hong Kong proseguirà nei prossimi giorni e si concluderà con una tappa a Galtelli.